fermi tutti allora adesso per la stampa faremo un urlo di battaglia mettete il panigliere io vi dirò davanti alla faccia pure se non ti vedete proprio in battaglia pronti? Castorini! 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 allora Castorini! primo gruppo andiamo 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 Luca! Maria Giulia! faccia di bronzo! vai vai prendiamolo dai dai Diana forza forza finitelo è sconfitto è sconfitto è sconfitto come la mia un salto di